Allora sono imbarazzanti le foto che hanno girato per questo fine settimana di piazze strapiene dove comunque si vive come non ci fossero domani. Allora a me spiace perché mi ricordo da piccolo c'era una bottega, vi ricordate le vecchie botteghe? C'era il cartello, perché per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno. Io penso che la stragrande maggioranza dei Veneti sia gente per bene che sta utilizzando le mascherine. Allora per colpa di pochi tutti rischiamo di rimetterci. La domanda ricorrente in queste ore è ma il Veneto resta giallo diventa arancione diventa rosso? Ma guardate se dovessimo valutare la situazione ospedaliera c'è il giallo ci sta tutto fino in fondo. Se dovessimo valutare quello che accade fuori mi sa che qualche dubbio ci viene. Possibile che oggi si viva solo col contesto del benessere e nessuno si pone il problema che al di là del fossato c'è un ospedale pieno di pazienti. Non veniteci a dire che è tutta un'invenzione perché muoiono una ventina di persone al giorno e non veniteci neanche a dire ma l'età ma la comorbilità ma le patologie perché tutti hanno diritto di vivere. E penso che bisogna avere rispetto per le persone che soffrono e stanno male e per gli operatori che rischiano la propria vita per poter venirmi fuori. Non è che se saltiamo una domenica di spritz casca al mondo. Questo momento è esattamente quello che bisogna fare o andare a passeggiare dove non c'è gente o stare a casa. Altrimenti è inevitabile che ci daremo appuntamento alle porte dell'ospedale e poi non veniteci a dire che c'è la brandina nel corridoio, che indignazione, ecco la civiltà, guarda come curano i pazienti. Ogni struttura organizzata ha un punto di non ritorno. Cioè non è che il problema della gestione degli ospedali è un problema degli altri. Non esistono gli altri. Esiste la comunità. Adesso l'impressione è che il problema da comune sia diventato individuale. Ma se passa sto principio, guardate veramente ci infiliamo nei guai, eh? Cioè non è che l'alternativa al locale chiuso sia trovare un cappanone per andare a far festa. Cioè forse non si è capito di cosa si sta parlando. Cioè 2.500 morti sono un paese che se n'è andato, un comune che se n'è andato. Noi siamo sul pezzo. L'appello che faccio ai cittadini e soprattutto ai giovani è quello di essere della squadra. Noi andiamo avanti per la nostra strada. Questa non è politica. Questo è senso civico.